gentili telespettatori buona giornata sapete che roberto saviano è stato assunto dal corriere della sera e questo vi può far capire anche l'orientamento politico del corriere della sera che io avevo già capito da tempo è alcuni dicevano no il corriere è un giornale di destra ma quale destra e il corriere della sera fa finta di essere imparziale usa dei metodi delle tecniche per non farsi scoprire cerca di condizionare l'opinione pubblica senza farsi beccare ma io l'ho sempre beccato che è di sinistra quante volte ve l'ho raccontato questa volta tramite il suo nuovo dipendente roberto saviano che sfrutta dante per attaccare meloni e salvini sulla cultura italiana ma vediamo un po insomma hanno difeso dante dagli attacchi della germania di arno widman che poi sinceramente chi se ne frega degli attacchi della germania a dante di un giornalista tedesco a dante chi se ne frega ecco mettiamocelo chiaro bene in testa che importa a me non interessa niente degli attacchi del giornalista tedesco a dante però questo viene poi comunque sfruttato per fini propagandistici e politici vabbè hanno difeso dante intellettuali accademici giornalisti politici ecco e arriva pure roberto saviano che parla solo di due indovinate chi parla solo sul corriere della sera di giorgia meloni e matteo salvini voi direte ma che cia zecca giorgia meloni e salvini con dante cosa avranno mai detto questi due cattivoni del centrodestra questi terribili politici che fanno paura solo a nominarli beh conoscendone la faziosità non è difficile immaginare ecco visto che non poteva attaccarli su dante perché che cosa poteva dire di salvini e meloni su dante alighieri non sono coetanei ecco non sono stati a scuola insieme ecco poiché non poteva attaccarli nel merito li ha accusati di aver difeso il sommo poeta solo per coprire il fatto che non hanno né progetti né piani né visioni per ritirare su la cultura italiana insomma quindi salvini e meloni parlano di dante per coprire il fatto che non hanno nessun progetto sulla cultura beh una deduzione alquanto fantasiosa che non ha nessun nesso con la realtà ma che saviano selezioni con cura il bersaglio per impallinare l'unico gli unico leader dell'opposizione o anche matteo salvini che al governo il gesto è come si commenta anche da solo beh l'avesse rinfacciato a dario franceschini ministro della cultura non ci sarebbe stato nulla da dire beh c'è un ministro della cultura vuoi attaccare il fatto che nessuno pensa la cultura secondo te dovresti attaccare il ministro della cultura del partito democratico però è più forte il rancore verso verso salvini e meloni una volta era solo verso salvini adesso è entrata nell'it parade saviniana anche ovviamente giorgia meloni con il suo quasi 20 per cento e quindi dario franceschini il ministro competente che ha pure e ha pure bacchettato whitman citando dante dice non ragionar di loro ma guarda ma guarda e passa beh l'autore di gomorra però ha preferito sparare su sui responsabili in cui versa la cultura italiana e beh perciò ha patrocinato whitman stando attento a non rinnegare dante così la furbata di opporre all'icona della cultura radical chic tedesca solo meloni e salvini quasi a far capire che quelle solo quella sarebbe la compagnia che si azzardasse criticarla cioè nazionalisti e populisti beh intanto diciamo chissà che non si debba questo singolare sdoppiamento il ricordo del poeta esule infangato e diffamato per tutta la vita ecco poeta esule infangato e diffamato per tutta la vita già il povero dante se la vide più che brutta per quelle ingiuste accuse di concussione e arricchimento con cui i suoi nemici lo costrinsero ad abbandonare la politica e saviano ha fatto bene a sottolinearlo ma chissà perché resta forte il sospetto che quegli zelanti accusatori se fosse vissuto allora e ne sarebbe stato senz'altro il capo ma insomma abbiamo visto che in alcuni casi o perlomeno questi scrittori giornali scrittori programmi televisivi di sinistra molto spesso non sanno come attaccare salvini meloni i capi in generale del del centrodestra non sanno come fare perché non hanno appigli non hanno argomenti o perché salvini e meloni dicono delle cose di buon senso e si inventano degli arcani per attaccarli per cioè alla fine meloni e salvini e c'entrano sempre in qualche modo è sempre colpa loro no come ci attaccano da un giornale tedesco e loro lo fanno solo per difendono dante solo per propaganda ecco una delle dei metodi attuali per attaccare salvini e meloni è quello di dire qualsiasi cosa loro dicano che anche la sinistra reputa assolutamente giusta ma vogliono come letta l'antagonista contrastare sempre comunque le parole di queste due persone dicono sempre è però loro lo fanno per program lo dicono per propaganda quindi quando dicono qualcosa di giusto lo dicono e lo fanno per propaganda questa è ormai la frase automatica no il risponditore automatico lo fanno per propaganda io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale iscrizione è assolutamente gratuita non comporta nient'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile nella community del canale ci sono sondaggi eccetera eccetera e tante altre cose mentre nella pagina di facebook dove siamo lì teleitalia ci sono i video di teleitalia e teleitalia seconda rete teleitalia seconda rete è l'altro canale a cui vi invito ad iscrivervi ci sono anche poi gli abbonamenti gli abbonamenti che cosa sono sono un qualcosa in più in più per chi vuole aiutare il canale per chi con l'abbonamento da un euro vuole vedere i video ore prima che vengano pubblicati e poi ci sono anche c'è anche l'abbonamento da 2 euro e 99 al mese che serve per oltre a vedere i video ora prima anche a poter vedere dei video che sono solo per chi fa questo abbonamento grazie a tutti per avermi ascoltato e se volete tra circa una ventina di minuti ci saranno disponibili altri video su questo canale arrivederci e grazie e buona giornata